Guitarrè, Guitarrè è il nostro amico Carlo Di Poggi e speriamo che sia la prima e l'ultima volta e vi posso assicurare che per me è un piacere, nonostante i 40 anni, sulla sala del blues vedere tanta gente il sabato sera che ha deciso di arrivare al blues per la Trail Blues Band e di non stare a casa a vedere le solite porcate. Grazie 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 a tutti Grazie a tutti